Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Erika Tomassone. Buongiorno, buona domenica. Raccolti e riunite insieme ognuno da casa propria, in compagnia o in solitudine. Chiediamo a Dio di creare di noi, di fare di noi una comunità di ascolto. Invochiamo perciò la sua presenza. Il nostro aiuto è in Dio, fonte di ogni vita che in Gesù Cristo ci rivela il suo amore di Padre e nello Spirito Santo ci fortifica e ci libera. Amen. Leggo dal Salmo 108. Ti celebrerò tra i popoli, Signore, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli. Risplenda su tutta la terra la tua gloria perché quelli che ami siano liberati siano liberati. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Aiutaci ad uscire dalle difficoltà, perché vano è il soccorso dell'essere umano. Con Dio noi faremo cose grandi. Preghiamo. Dio nostro che nella tua bontà crei la vita e nella tua fedeltà sostieni ogni cosa. Noi ti celebriamo e cantiamo le tue lodi. Tu molte volte hai liberato il tuo popolo. Tu innalzi coloro che non contano nulla e non possono nulla. Tu ci liberi dalle paure che ci paralizzano e tu stesso vieni a sostenere il peso delle nostre preoccupazioni e dei nostri affanni. La forza di vita che proviene dalla tua parola ci permette di pensare in modo diverso, ci permette di sentire in modo diverso, ci permette di affrontare anche le avversità. La tua giustizia rissana la nostra vita e la rende fruttuosa. A te la gloria in Gesù Cristo. Amen. auspettare anche le nostri층li ultimi suoi pubblici suoi pubblici suoi ai occhi. Sancti, profeti ed angeli, tutto il celeste stuor, Brighi e rubigli, arcangeli, sciolgano al canto il cuor. Venite tutti, oh peccator, che sangue il suo ramo, gloria al Signore di eterno lor, a Lui che ci salvò. Amen. Leggiamo dal Vangelo di Luca, nel capitolo 18, i versetti da 35 a 43. Come Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù, il Nazareno. Allora egli gridò, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. E quando gli fu vicino, gli domandò, che vuoi che io ti faccia? E gli disse, Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento, ricuperò la vista. E lo seguiva, glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Cari e care nel Signore, quanta forza ci vuole oggi per ammettere e riconoscere che non tutto va bene nella nostra vita. Che abbiamo le nostre paure, ma abbiamo anche le nostre realtà di difficoltà. E la comunità dei credenti, che dovrebbe essere un gruppo di forza, di soccorso reciproco e di consolazione, a volte non riesce a fare molto meglio di quello che accade nella nostra società. Ti chiedo come stai. Eppur di non essere deluso dalla reazione di chi chiede tu dirai tutto bene. Perché a volte ammettere di essere in una situazione di necessità, di difficoltà, di malattia, di preoccupazione, è difficile. E allora il dolore spesso nella nostra società scorre via. No, non è poi così grave. No, poi ci penseremo domani. Siamo molto, molto organizzati e siamo anche compassati. Il cieco che Gesù incontra per strada non è molto organizzato e non è neanche compassato. Sente tutto il dolore della sua condizione ed è per questo che grida. Grida disperatamente verso un uomo che non può vedere. È un grido che però riconosce in quell'uomo che lui non riesce a vedere a causa della sua cecità vede il Messia. Allora potremmo dire vede con gli occhi del cuore. Dire vedo con gli occhi del cuore non significa dire una cosa sdolcinata perché niente in questo testo è particolarmente sdolcinato. Gli occhi del cuore riescono a comprendere una possibilità davanti alla propria necessità. E quel grido disperato quel grido disorganizzato quell'essere non per bene compassato al suo posto di mendicante provoca delle reazioni disturbi, dai fastidio. tutti coloro che circondano il cieco lo vogliono far tacere vogliono far tacere la sua preghiera ma il cieco non tace non lascia perdere insiste perché crede che a passare sulla sua strada c'è l'occasione per la sua vita e allora si aggrappa a questa occasione a questo momento decisivo per lui per la sua vita ed è interrogato curiosamente da Gesù che cosa vuoi che ti faccia? Gesù sa tutto ma il cieco deve dichiarare la sua necessità e questo è già un passo verso la risoluzione se io ammetto dov'è il mio dolore? Alla fine ce lo aspettiamo nel testo Gesù lo guarisce e quel cieco loda loda l'azione ricreatrice di Dio loda il riscatto della sua vita che gli è venuto incontro e Gesù dice la tua fede ti ha salvato cioè il tuo affidarti il tuo fidarti che c'è un Dio che ti vede e vuole per te ogni bene ha significato quella circostanza che hai saputo dire il tuo dolore hai saputo continuare incessantemente il grido ti sei mantenuto poco compassato e disorganizzato rispetto agli altri e questo ha significato incontrare il cambiamento della tua vita cosa potrebbe annunciare la nostra chiesa in società come le nostre che nascondono ed emarginano le difficoltà e il dolore che nascondono e silenziano i deboli che ci impediscono di essere veramente ansiosi veramente tristi veramente sconsolati senza sentirci esagerati fuori posto o peggio già perdenti cosa dovrebbe annunciare la chiesa in queste società in cui si fa finta di aver già capito tutto forse dovremmo innanzitutto imparare a vivere come il mendicante di Gerico sapendo che è legittimo per fede presentare la propria situazione di oscurità anche platealmente al mondo soprattutto a una comunità di credenti assolutamente a Dio e fidarsi che Dio sa trasformare la tenebra in luce che Dio può convertire le persone che dovrebbero accompagnarci e non lo fanno che dovrebbero confortarci e non osano convertire tutte queste persone convertire noi ad una vita nuova Amen la Tereza tua si volge te odio frata e liquida a te l'universo Signore di grazia e carità, la tua parola è verità, è Padre, amore e l'Evangel, la chiesa sempre guiderà, mi fesai qui dai suoi fedeli. Cristo è il vento a noi, Signore, la luce del tuo gran poter, mi svegli e scopi i nostri cuori, a compiere sempre il tuo volere. Ci raccogliamo in preghiera. Vi chiedo di mettervi in un'attitudine di preghiera e anche se non ci vediamo reciprocamente di provare a utilizzare gli occhi del cuore e vedere in ognuno e ognuna di noi, conosciuti e sconosciuti, dei fratelli, delle sorelle su cui è possibile contare. Preghiamo. Signore, tu che vedi e leggi nei nostri cuori, fa che la tua azione possa rivelarsi potente nelle nostre vite e nelle vite di coloro che ti presentiamo nella nostra preghiera personale e per forza in questo momento silenziosa. Lascia che brilli nella vita di ognuno e ognuna la luce della tua speranza. Fa che possiamo essere consapevoli del tuo amore e affidarci a te. Agisci in questo nostro mondo perché si affermi pienamente la tua volontà e la tua libertà. Noi ti chiediamo ogni cosa e ti presentiamo ogni persona che ci sta a cuore nel nome di Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E ci salutiamo e continuiamo a vivere questa nostra giornata di domenica accompagnati dalla benedizione del Signore. Andiamo in pace, figli e figlie di Dio, forti della certezza che Dio ci invia e che Lui stesso cammina davanti a noi. Andiamo per condividere con altri e altre la gioia e la potenza che ci giunge dalla promessa d'amore che da Dio abbiamo ricevuto. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Erika Tomassone. Erika Tomassone. Erika Tomassone. Erika Tomassone. Erika Tomassone.